black ma cosa ci facciamo qui dove cazzo siamo siamo ma sembra l'artemis l'artemis ma cos'è l'artemis entriamo ma con i soldi della porta adesso posso andare a puttane esattamente dove ti trovi nel reich finisce con reich sei andato da hitler dove stai andando sono andato da hitler e sono qui nella piscina e vedo che ci sono delle gentili donzelle e io ero lì signor luke luke ma sono arrivato adesso io adesso ci arrivo anch'io salve di nuovo donzella oddio adesso così quasi tiro fuori l'uccello ciao faccio lo zoom ma questa qua ce l'ha rifatte ma male bene rifatte bene ma sticazzi ma qui c'è il tizio che ti fa i massaggi mi sa sai davvero adesso mi dico l'uccello di fuori questo è vero è qua è la sauna quanti li trovi ci sono i membri del visis è così un po tutta questa figa mi dà la testa ma qui c'è corvo di disonored e la ladyboy però da notare che lì c'è sempre la stessa bionda con le tette rifatte ovviamente che ti aspetta per un drink è la destra con il vestitino rosa andiamo nel waiter signor luke ma si andiamo subito da notare da notare che la signorina ha cambiato il vestitino e ha messo un bellissimo rosa e quella lì è sempre con la maschera c'è sempre quella con la maschera è quella del vestitino rosa di prima quella seguita ma c'è un'altra bionda sono tutte biondi siamo in germania siamo in germania andiamo nel loro tico quattro pare siamo in un cinema sto guardando dietro e ci sono un'area strana luke cosa potrebbe essere secondo te un'area spippettatori secondo me ti fanno le pugnette ma da notare che a sinistra a destra le ragazze sono le stesse quindi ci sono anche le gemelle saranno due foto uguali però andiamo non lo torniamo indietro del signorina c'è il guardaroba sinceramente non ho mai guardare i fatti con marzo andiamo a vedere le guardaroba vestitini che siamo dei digisti ne ritorniamo nel ristorante c'è il ristorante vediamo nel ristorante c'è il zoom il restaurante è importante il ristorante cioè non è una cosa da situare e la madonna eh vabbè zoom terrasse c'è la terrazza ehm resta round per l'assen e poi c'è vediamo la terrazza terrasse yeah this is ver terrasse siamo nella terrazza e non c'è proprio una grandissima vista ma frega ci sono gli ombrelloni con la heineken chiaramente dove voglio andare sì infatti andiamo alla love suite ehi ma sto posto è così grande che ci confondiamo ci confondiamo riga abbiamo troppi soldi troppi 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 vipi sweet andiamo a vedere aspetta aspetta prima dobbiamo partire delle cose più umili non farti montare la testa no scusi siamo sempre youtubers ma io direi acropolis perché mi sa di povero quindi andiamo nell'acropolis è quella più umile forse vediamo attenzione siamo dentro vedo una statua e vedo e vedo una zizza e vedo sempre la solita tipa ma ha rotto il cazzo sta qua però a notare la bionda che guarda fuori comunque l'ambientazione è proprio greca si vede proprio l'acropolis c'è anche lo specchio vedi l'effetto specchio da notare tu ti vedi mentre trombi sì 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 vai un pochettino più a destra c'è la cartigenica lì è vero no secondo me quella cosa serve per il pissing che magari ne si sa mai torniamo indietro va bene signori luca ritorniamo indietro andiamo prima la ecstasy o la zebra la ecstasy mi sembra di droga qui c'è già far di sicuro io mi drogo oh guarda c'è mesi ahahah e quella è vicoto ahahah e sì basta direi di uscire e andare alla zebra andiamo alla zebra sarà bianca e nera presumo perchè se è zebra sarà bianca e nera sarà giuventina eh infatti è molto alla black drum black io ti ci vedrei in questo loco eh sì 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 fa molto fa molto black eh ma tu sai di notte con le luci con intanto con la tettona è bellissimo qua eh ma non scherzare tu ci dici scherzi però anche vedere lì lo specchio no mentre l'incune intanto ti guardi lo specchio e dici sono orgoglioso cazzo pago 80 euro per entrare e 60 per chiamarmela esatto rigoglioso e guarda e ce la troviamo subito alla nostra amica questa è messi un'amica e là sul divano c'è il micoto distesa qui questa qui è freccia è freccia esatto e dietro c'è corvo ma ha rotto il cazzo io butto una vasca sta qua eh dell'acido io sono uscito e sono al parcheggio rigorosamente pieno di bmw, audi e quant'altro vediamo vediamo forse sta arrivando anche eccole qua tutte le germaniche vedi queste sono le vere tedesche non quelle che c'hanno lì dentro e siamo usciti e questo ragazzi era il tour dell'artemis sì adesso bisogna tirare fuori i soldi adesso sappiate che se volete entrare qua bisogna pagare e dovete avere i big money della partner non li avete? chiedete già farlo mi drogo mi drogo